Dopo Minitalia che ha inaugurato la nuova stagione primavera estate dei parchi di divertimento italiani, il 12 marzo in questi giorni tocca a Gardaland e a Mirabilandia a riaprire i cancelli per la stagione estiva. Domani è la volta di Gardaland, il 2 aprile invece è la volta di Mirabilandia. Si inaugurano anche le nuove attrazioni, Raptor per Gardaland e Master Type per Mirabilandia. Grazie a tutti.